beh ragazzi non so come dice questo video ma io sono spaccadaggio e bentornati in questo nuovissimo video di origin sage turbo è fantastico oggi siamo di nuovo world tour in california ma questa volta siamo a los angeles ci sono due tre circuiti questa volta invece allora prendiamo come sempre la nostra macchina bianca sai come sempre non come nell'ultimo video nella seconda mappa abbiamo preso questa macchina bianca fantastico ed è ieri che non gioco quindi vediamo come va qua partono tutte la grafica figata e los angeles e vaffanculo figoti se non pigliamo una bello in faccia si giochi arcade sono fighissimi è una grafica semplice ma efficace che salitona tagliti dal calcio per favore ma perché questi misiucano in curva si frenano perché rompono i coglioni vedi frenano ne colpa mia ci vado a sbattere come un coglione ci frenano è colpa mia no no ho sbagliato tutto nella curva ho sbagliato tutto tutto no sono solo decimo devo recuperare chi figata di giorno diventato notte ok mandato a fanculo devo cercare di sei laterale così posso mandare a fanculo mi hanno superato ma pensavo che mancavano ancora molti meno giro invece infatti dico ma questa mappa è abbastanza corta perché facciamo così pochi giri e infatti oh god una volta uno che ha preso me in testate in pieno che due coglioni ultimo giro vero ecco vediamo se ci siamo superi su due ebiti no uno è riuscito a superarlo ma non ci tolgono dal calcio guarda mi viene apposta davanti ecco vedo l'altro dove l'ho visto eh vabbè troppo avanti bella così ragazzi molto bello sto game molto bello vediamo la prossima se vediamo se possiamo andare alla prossima mappa con 7 secondi di vantaggio perché vediamo vediamo possiamo giocare la prossima mappa siamo qualificati e ci siamo qualificate come ok nuovo game nuova partita ma perché ieri partono così veloci e il mio invece sembra che stia morendo no sembra che sono bellissimo questo qua con la città prima con le palme no ho sbagliato tutto io mi piace molto di più rispetto a cose l'altra volta però vedi che ci mettono davanti apposta dammi un po' di monetina ok togiti al calcio te vedi ci metto apposta davanti ah 4 giri un po' di me non mi ricordo prima quando ce ne erano forse anche prima 4 vero eh lo prendo lo prendo lo prendo lo prendo nooo mi sono fatto sopassare da un botto di persone ragazzi questo game è andato abbastanza male mi sa perché guarda che vaffanculo che stroncio mi chiudeva fuori no 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 è storicissimo questo guarda che ci frenna in curva ci mette lì davanti e non me lo fa sopassare sto gioco è probabilmente questo gioco è questa cosa qua che tutti ci frenano in curva no 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 non dimmi era appena riuscito a sopassarlo sto bastardoni della battaglia oh l'ho superato di nuovo vai figa ok ne vedo un altro avanti ultimo giro vedo un altro avanti ecco vedi quando già sono soli non sono insieme che rompere il calcio no 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 non sopassarmi no mi sopassato vaffanculo no li ho recuperati li ho recuperati vai 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 eh ma questo me la fa e figaci ci va terci oh my god bellissimo game eh mi semplici i secondi vantaggi se buttissano guarda quanto i secondi vantaggi avevano un botto però terza posizione per noi tantissima roba incredibile avanti e andiamo ok abbiamo sbloccato delle cose ma io finisco in Los Angeles prima di tutto ok finiamo in Los Angeles bello il ponte tutto bella curva un po' complicato adesso non ricordo già più dove c'è succederà che figata bello eh vedi perché in cose che cosa c'è in tanti li becco tutti sti coglioni di macchinine da battaglia coglione coglione no no pensavo che era più corta la curva sinceramente pensavo che era molto più corta la curva non è una scusa è perché ho sbagliato però era per dirvelo pensavo che era molto più corta la curva farò più attenzione la prossima volta ok quattro dieci uno ancora tre ah tutti e quattro qua ok ragazzi questa è la curva dove ho sbagliato prima stavo per sbagliare ragazzi siamo molto più corta la curva non vedo un cazzo quanto siamo settimi settimi no eh vedi e qua dove perdo il vantaggio e quando questi coglioni di merda si mettono sempre davanti guarda guarda adesso ah non l'ha fatto mi si è messo avanti e si è frenato in curva figa anche questa curva è lunghissima ecco questa è quella bastarda bastarda eh ma non ho sbagliato adesso perché mi sono frenato ma perché se quello frena in curva che cazzo si frena in curva vorrei sapere guardalo guarda si metti da no guarda l'avete visto si è girato proprio a tutto 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 verso destra ma fottutamente tutto adesso vuoi dire di nuovo fottutamente tutto verso destra non lo so ciò che fai faccio un abbonamento a destra e guardalo non lo va avanti come fai a stare avanti a me andando così piano no lo sbaglio lo sbaglio lo sbaglio eh mi ha disopassato prima andava piano quando lo dovevo fare adesso guarda guarda adesso sembra una furia poi non si è passati due perché sono solo terzo ero quarto vabbè terzo posto ne abbiamo finito anche Los Angeles molto 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 bene un sacco di punti questa volta buono buono bellissimo abbiamo ragazzi concluso la California fantastico che bello e vabbè ragazzi per questo video è tutto noi ci vediamo al prossimo video e ciao ciao